Nel giorno del 232esimo compleanno di Gioacchino Rossini, una lunga giornata alla scoperta di vita e opere degli più illustri cittadino pesarese. Tanti visitatori hanno approfittato della giornata di apertura ad ingresso gratuito di Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini. Museo e Fondazione Rossini che nel giorno del compleanno hanno ricevuto in dono anche reperti rossiniani inediti. Una lettera e un autografo musicale regalati alla città dal professore fiorentino Giovanni Cascio Pratilli che ne era in possesso. Il professore è molto anziano, il proprietario delle lettere è molto anziano e senza eredi e quindi prima di lasciare questo mondo desiderava che questi due inediti fossero destinati a chi li potesse conservare e mantenere nel tempo. I inediti sono Henriens dedicato a Giulia Corridi Hall, una signora fiorentina, una signora fiorentina moglie di un banchiere, è tratto dai pesce de veillesse, però ha delle varianti rispetto ad altre composizioni sullo stesso tema. Alessandro Marangoni ha messo in evidenza queste varianti nel volume. L'altra invece è una lettera che sempre Rossini scrive da passì al suo amministratore fiorentino perché è in ballo la vendita del palazzo di Via Larga all'epoca, oggi Via Cavour di questo immobile perché lui voleva disfarsene. Una donazione applaudita a margine della presentazione annuale dell'attività editoriale della Fondazione Rossini. Attività editoriale, volumi dell'edizione critica che sono usciti proprio di recente a dicembre, Edoardo e Cristina a cura di Andrea Malnati e Alice Tavilla che è anche l'opera che ha aperto il Rossini Opera Festival l'anno scorso ed era in prima moderna mondiale. Il bollettino nell'edizione ormai curata da Matteo Giugioli e Selin Frigao Manning che sono i due direttori editoriale e scientifico. Nella colana delle tesi rossignane, quella a cui noi teniamo tanto perché è la nuova fucina, sono i nuovi musicologi che si approcciano. L'altro elemento importante è la ricerca che sta andando avanti sull'epistolario rossignano. Grazie a tutti.